Eccoci ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati, come state? Spero tutto bene. Oggi finalmente torniamo a casa, torniamo a registrare qui nello studio, torniamo ad avere tutti i nostri comfort. Ieri c'è stato un doppio appuntamento registrato in giro, sapete bene che preferisco in realtà essere qua per offrire anche un contenuto di maggiore qualità rispetto a un telefono che deve ballare per forza di cose quando siamo in giro. Tra l'altro ieri sera abbiamo fatto la puntata anche di Tutti in the Box, c'è stata la trasmissione su Twitch, qualche problemino tecnico ma è il bello della diretta, anche una roba del genere e comunque in questi giorni, in queste ore dovrebbero uscire dei riassunti da parte di Davom che poi andrà a ricaricare sul canale YouTube e volevo parlarvi più che altro della questione Allegri perché ieri sera ci siamo anche un po' accesi mentre parlavamo di questa cosa perché è accesi ovviamente nel rispetto, ma perché c'erano semplicemente visioni differenti, opinioni differenti. Su una cosa concordavamo, bene o male tutti, e cioè se Allegri decide di accettare questa offerta araba esce dal giro dei grandi nomi, delle grandi panchine e quindi poi difficilmente tornerà dentro. Io sono molto d'accordo con questa visione e secondo me questa è la grande paura di Allegri di fronte a questa maxi offerta che è arrivata dall'Arabia Saudita. Io sono anche dell'idea che Allegri un'ultima grande cartuccia se la possa ancora sparare per quello che è il suo status senza considerare soltanto questi ultimi due anni la Juventus ed è ovvio che quando un club va ad avvicinarsi a un allenatore a offrire una panchina prestigiosa e a offrire un determinato stipendio certe cose le deve guardare, però secondo me l'ipotesi PSG potrebbe essere la soluzione migliore nella testa di Allegri in questo momento, anche se poi abbiamo visto che il PSG proprio nell'ultimissime ore ha una bella gatta da pelare con Kylian Mbappé e vediamo che cosa succederà. Messi sicuramente non giocherà lì l'anno prossimo, vediamo Mbappé, si è parlato anche di Neymar per gli Emirati Arabi, e questi rischiano di perdere il loro tridente delle meraviglie, sarebbe veramente un problema, ma questi alla fine sono tutti affaracci loro e di noi del PSG ci importa relativamente poco. Cerco di fare anche una ricostruzione, intanto vi dico che secondo Gazzetta dello Sport, secondo Giovanni Albanese, oggi ci sarà un vero e proprio summit di mercato tra Juventus e Massimiliano Allegri. E questo è tutto dire, però secondo me è anche logico, vi spiego anche il perché. Ragazzi, torniamo sempre lì, Scanavino, Allegri l'ha confermato. So che tanti di voi dietro le parole di Scanavino hanno visto della dietrologia, ma questa è la versione ufficiale della Juventus. Non c'è la volontà da parte di Exor di pagare 40 milioni per un allenatore che non allenerà. Questa è la linea guida, questa è probabilmente la linea di pensiero di Exor. Se devo tirare fuori quei soldi, allora l'allenatore è che alleni, perché Allegri è stato fermo un anno e ha preso dei soldi, Sarri è stato fermo un anno e ha preso dei soldi, Pirro è stato fermo un anno e ha preso dei soldi, adesso basta, non facciamo più quell'errore, taglio un etto col passato, se paghiamo un allenatore è perché lavora sul campo. Quindi questa è la lettura in questo momento di Exor, che non è che non può permettersi di esonerare Allegri, Exor potrebbe esonerarlo 5, 6, 7, 8 volte probabilmente Massimiliano Allegri, è che non vuole, sono due concetti differenti. Quindi la linea guida della Juventus è la seguente, se Allegri decide di accettare un'altra offerta, nessun problema, anzi, non siamo tristi, perché probabilmente avremmo optato per un cambio in panchina, se invece Allegri decide di non partire, Allegri sarà l'allenatore della Juventus l'anno prossimo e quindi per forza di cose portiamo avanti anche dei summit di mercato per capire un po' le linee guida. Nel summit di oggi, in teoria, si dovrebbe parlare di Milik, quindi capire se si vuole fare una nuova offerta all'Olympic Marsiglia per l'attaccante polacco, si parla di Juventus che vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, piuttosto che acquistarlo subito, ovviamente l'Olympic invece preferirebbe vendere l'attaccante di fronte a un'offerta concreta e immediata, si parlerà di Rabiot, dato che la Juventus sta comunque dialogando con la mamma agente Veronique del francese, anche se dall'altra parte ci sono i più grandi club al mondo e la Premier League che chiama, adesso vi faccio una domanda, poi voglio anche una risposta, secondo voi, anzi, secondo voi, se foste il Rabiot, accettereste un'offerta di rinnovo della Juve o andreste a giocare all'estero in un club di Premier, secondo me non ce n'è neanche da mettere, si parla di un altro eventuale anno di rinnovo, di contratto di quadrado a cifre più basse, siamo sempre lì ragazzi, anche basta, secondo me, parlare di queste cose e si parla di un'eventuale cessione di Vlaovic, perché comunque la Juventus di fronte a un'offerta andrebbe a cedere Vlaovic, ora io dico una cosa molto grossa in questo momento, mi collego anche un po' al discorso ieri del mercato, che se la Juve fa questo mercato nella Legri Bis e poi questi calciatori non ci sono, cedere Vlaovic oggi sarebbe la più grande sconfitta in assoluto per la Juventus, perché se tu fai un investimento di quel calibro per un giocatore che dovrebbe essere l'attaccante riferimento della Juve per i prossimi 4-5 anni, se lo cedi dopo una stagione e mezza, perché non sei stato in grado di valorizzarlo al meglio, è una sconfitta enorme, quindi io Vlaovic lo vorrei tenere al 100%, però io sono convinto che dovesse arrivare un'offerta per Vlaovic, Vlaovic prende e va, aggiungo Vlaovic alla Juve, mi sarebbe piaciuto vederlo con un altro tipo di approccio al lavoro, con un altro tipo di allenatore in panchina, perché io sono veramente convinto che Vlaovic sia uno dei giocatori, degli attaccanti più forti della Serie A, perché quest'anno abbiamo visto un Vlaovic molto sottotono, tanti parlano di un Vlaovic scarso, io non sono assolutamente di questa idea, e davvero cedere Vlaovic oggi senza averlo visto alla Juve con un altro tipo di impronta mi dispiacerebbe tanto, ma veramente tanto, tanto, tanto. E quindi questi un po' sono i temi sul tavolo della Juventus, di questo dialogo che avrà con Massimiliano Allegri nella giornata di oggi, e nel frattempo Allegri secondo me sta continuando a pensare, perché adesso cerco di fare anche una fotografia di quello che dovrebbe essere. Oggi Massimiliano Allegri ha sul tavolo la conferma della Juventus, e quindi la certezza che comunque l'anno prossimo rimarrà in panchina, non però per scelta, non però per fiducia, più che altro per quello che dicevamo prima, non c'è la volontà di pagare un altro allenatore fermo, con uno spogliatoio che non tira proprio tutto dalla parte dell'allenatore per usare un eufemismo, con una proprietà che probabilmente è diversa, una dirigenza rispetto a quella che l'aveva scelto, e quindi non c'è più Andrea Agnelli che aveva scelto il progetto Massimiliano Allegri, con un DS che in questo momento emanna, ma che potrebbe modificarsi in giuntoli, che da quanto si era capito non era proprio felicissimo di avere Massimiliano Allegri in panchina, e con un rapporto con la tifosirea che in questo momento è i minimi storici, quindi sicuramente rimanere alla Juve è un'opzione, ed è valida, ed è anche probabile per via del contratto, però secondo me è un'opzione molto difficile da mandare giù, e dall'altra hai la rabbia, hai questo triennale con 10 milioni a firme, 20 milioni all'anno, 70 milioni in tre anni, o se proprio proprio vuoi fare un anno solo, sono 30 milioni per un anno e gli altri due ti fai svincolare, con però ovviamente l'idea che tu non sia contento, perché io sono convinto che Massimiliano Allegri non sia contento eventualmente di accettare l'offerta araba, cioè se l'accetta c'è un motivo 1-1 e 1 solo, così come per Ronaldo c'era un motivo 1-1 solo, per Messi che era stato tentato ci sarebbe stato un motivo 1-1 solo, Benzema c'è andato per un motivo 1-1 solo, ieri ha firmato Steven Gerrard e ci ha andato per un motivo 1-1 solo, non è la competitività, non è la bellezza, non è il fascino del campionato, non c'entra assolutamente niente questa roba, ed è un altro, quindi se dovesse mai firmare Allegri non lo farà per la felicità lavorativa, lo farà per altre motivazioni, che per me, ripeto, sono sacrosante, un'offerta del genere non è facile da rifiutare. E quindi cosa fareste voi, Massimiliano Allegri? Perché rimanere alla Juve lo puoi fare, però secondo me è complicato, andare là lo puoi fare allo stesso modo è complicato, secondo me banalmente Allegri sta aspettando una chiamata da Parigi, è lì col telefono che dice se arriva questa chiamata da Parigi, benissimo, ok, non ho dubbi, vado là, una squadra ancora competitiva, in un campionato semi-competitivo, perché stiamo parlando, un campionato non di primissimo livello come la Premier League, ma nei top europei, di una squadra che gioca la Champions, quindi nella competizione migliore, di una squadra che non ha problemi a comprare dei giocatori che magari posso volere, uno stipendio che sarà sicuramente superiore a quello offerto alla Juve, non ai livelli di quella dell'Arabia, ma nemmeno in un campionato finito, o comunque un campionato che in questo momento sta provando a strappare i nomi, per far parlare di sé, e ci sta riuscendo alla grandissima, perché è cinque giorni che parliamo del campionato arabo, e mai avrei pensato rifarlo, e quindi secondo me Allegri sta aspettando semplicemente di capire se c'è la possibilità di andare a trovare quella via di mezzo, perché non prendiamoci in giro, sia rimanere alla Juve, sia andare in Arabia, per un motivo o per un altro, per Max Allegri una vittoria e una sconfitta, vittoria in Arabia e soldi, sconfitta il campionato, vittoria alla Juve, rimanere comunque alla Juve, sconfitta tutte le difficoltà che si porterebbe dietro nel caso, un terzano di Allegri, e come stiamo vedendo la Sabin di mercato, con i giocatori che potrebbero partire, con i giocatori che potrebbero non rinnovare, con i giocatori che potrebbero non essere riscattati, quindi parte in salita, se aggiungiamo la notizia, che ha dato ieri sera a Romeo Agresti, di una Juve che deve ridurre, Monti in Gaggi, e comunque tramite le cessioni deve arrivare a accumulare, sopra i 100 milioni di euro, stiamo parlando di una società, la Juve, che in questo momento è molto vincolata al fatto che l'anno prossimo non farà la Champions, e invece dall'altra parte c'è il PSG, che ha il trucco dei soldi infiniti sul mercato, e dall'altra parte c'è l'Arabia che ha il trucco dei soldi infiniti per 5, quindi secondo me la situazione di Maximiliano, di Maximiliano Allegri oggi è di riflessione, è giusto che ci pensi, è giusto che vada a interpellare anche la famiglia, perché si parla di scelte molto molto impattanti dal punto di vista della vita quotidiana, però secondo me sia da una parte che dall'altra Juve e Arabia c'è una vittoria e una sconfitta, anche perché io non so se Allegri rimane alla Juve e fa un terzo anno di Allegri bis e non riesce a riportare la Juve su degli standard qualitativi accettabili quante altre squadre poi possano scegliere e optare per Maximiliano Allegri, perché poi non si può godere di una stima, di una riconoscenza infinita per cose che sono state fatte oltre 7-8 anni fa, cioè la prima finale di Champions è il 2014-2015, stiamo parlando di 8-9 stagioni fa, e poi quel ciclo è stato di 5 anni consecutivi, poi si è stati fermi due anni e si è fatti due anni non eccezionali e ora vediamo il terzo, cioè oggi Allegri è spalla al muro, secondo me, oggi Allegri è spalla al muro, perché capisce che alla Juve ci rimarrebbe perfetto e probabilmente per te stardaggine, perché quella volontà di dire sai cosa adesso ti dimostro che in realtà ce la faccio ancora e posso portare la Juve lì, però ci sono i presupposti affinché Allegri possa riuscire a fare quello con la Juve, non solo da parte di Allegri, ma proprio anche da parte della Juve, cioè la Juve mette a disposizione di Allegri la squadra che deve essere allenata da Allegri, sì o no? Secondo me no, perché io mi aspetto una Juve che l'anno prossimo debba essere molto più valorizzata in quello che avrà e non mi aspetto una Juve con dei nomi gigagalittici, anzi con i nomi comunque più chiacchierati che abbiamo oggi, li vedo da un'altra parte, in altre squadre, quindi se Allegri decide di rimanere a Juventus, oltre a rinunciare a un'offerta, a un bagno d'oro, rischia, cioè mette un all-in sulla sua carriera, però è diverso da andare in Arabia dove probabilmente mette fine definitivamente alla carriera, quindi qual è l'opzione migliore? Una squadra che, problemi di soldi, non ne ha, problemi da acquistare ai calciatori, non ne ha, è alla ricerca di un allenatore che possa rispondere alle caratteristiche, magari anche di Massimiliano Allegri, il problema è che deve muoversi tutto questo nel giro di pochissime ore, perché tra meno di un mese siamo in campo con ritiro, e già se oggi la Juventus incontra l'allenatore per fare il sub di mercato, significa che si sta lavorando per capire come assemblare la squadra per il prossimo anno, il punto è che non abbiamo ancora la conferma definitiva al 100% che l'allenatore sarà Massimiliano Allegri, e questo dipende da lui, e probabilmente questo dipende anche da una chiamata che potrebbe arrivare a direzione Parigi, questa è la mia ricostruzione, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti.